Ormai non ci sarebbero più dubbi su come sia finita a Temptation Island, la loro relazione starebbe continuando anche fuori dal reality Il viaggio nei sentimenti che le coppie vivono a Temptation Island è un turbinio di emozione difficile da descrivere che, spesso, sorprende anche gli stessi protagonisti, non solo i telespettatori a casa Nell'edizione appena finita ne abbiamo davvero viste e sentite di tutti i colori, ma, alla fine, ha davvero trionfato l'amore in tutte le sue forme E sembrava essere stato così anche per la coppia formata da Luca Bed e Gaia Vemercati I continui tradimenti di lui, i flirt con le colleghe e chi più ne ha più ne metta sono stati trattati come un fattore fisiologico dal fidanzato, che non è sembrato avere alcuna intenzione di nascondere tale verità Ma quando lei, dopo aver pianto e sofferto, ha iniziato a sfogarsi con un tentatore e si è avvicinata a lui È stato a quel punto che Luca non ha retto e ha subito chiesto il falò di confronto, trovando Gaia fuori di sé e assolutamente decisa a tornare a casa senza di lui Ma alla fine, pur di continuare a parlare, ha accettato di uscire con Luca, decisione che, tuttavia, sarebbe valsa poco o nulla Gaia non è tornata con Luca, ma ha rivisto il tentatore Jakub Il nostro falò è stato molto intenso, c'erano rabbia e delusione, ha subito detto Gaia per spiegare cos'è successo un mese dopo la fine del programma Quei giorni è stato un continuo litigare quindi erano subentrati altri problemi, altri punti di domanda ha detto Quando ci sono tanti punti di domanda e c'è una Gaia con un percorso di amor proprio Erano due strade che non si incrociavano, ha spiegato la bella ragazza, che per una volta ha messo al primo posto se stessa Gaia, quindi, ha messo ordine Con Luca è finita, ma starebbe continuando a vedere il tentatore Jakub Bekur Tra i due era scattata grande empatia e, dopo la chiusura con il suo fidanzato, Gaia avrebbe deciso di continuare a sentirlo Circola anche un video in rete di Gaia insieme a Jakub tra le risate generali, che ha generato grandi esultanze tra i social Non sappiamo se tra i due nascerà una storia d'amore, ma di sicuro si stanno conoscendo sul serio Ciao